Dopo due giorni si è spenta la speranza di ritrovare in vita Simona Carpignano, la tarantina dispersa dopo il crollo dell'edificio avvenuto lunedì mattina nel centro di Marsiglia. La notizia, circolata sui profili Facebook delle amici di Simona, è stata confermata dal padre, giunto sul posto per il riconoscimento. È stato trovato il corpo di Simona, l'hanno vista purtroppo. L'attesa dei genitori, della famiglia e delle amici è finita. Simona è stata ritrovata senza vita sotto le macerie, quelle maledette macerie al 65 di Riu d'Oban, a Marsiglia, dove Simona sperava di trovare lavoro. Lei che in tasca aveva due lauree e il sorriso dei suoi 30 anni, pieni di sogni e voglia di fare, riportano alcuni post del gruppo Italiani a Marsiglia su Facebook. Trent'anni, nata e cresciuta a Taranto, dopo la laurea in lingua all'Università del Salento, Simona Carpignano si era trasferita in Francia, a Parigi, per una seconda laurea e un master. Aveva scelto di andare a Marsiglia pochi mesi fa per lavoro. Ma Simona voleva andare via da quel palazzo, non si sentiva sicura e non smetteva di dire che avrebbe finito per crollare. Un presentimento che purtroppo si è trasformato in realtà. Intanto il comune di Marsiglia ha avanzato l'ipotesi che le forti piogge degli ultimi giorni possono aver provocato la catastrofe, ma per il procuratore Xavet Tarabeu, allo stato attuale non è ancora possibile stabilire le cause precise del crollo. È prematuro imputare delle responsabilità penali tenuto conto della complessità della situazione, aggiunto il pubblico ministero. Sulla tragedia c'è una nota ufficiale dell'amministrazione comunale di Taranto, con la quale si esprime cordoglio per la scomparsa della giovane tarantina. L'amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio alla famiglia di Simona Carpignano, la giovane tarantina che ha perso la vita a Marsiglia nel funestro crollo di due palazzine. La perdita insensata di una giovane vita è sempre difficile da accettare e ferisce un'intera comunità nel profondo, spingendola a unirsi in un sentimento di vicinanza e commozione, oltre che a interrogarsi su quanto si debba ancora fare per il futuro dei suoi figli. Simona lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. Desideriamo stringerci in queste ore ai suoi cari e garantire un possibile sostegno.